Bella ragazzi, benvenuti a questo nuovo video Si però alza la voce che non si capisce nulla Non vi avevo detto che ho anche 8 anni No raga io ci rinuncio, non riesco a capire nulla, che cazzo faccio? Alzo il volume E vorrei far vedere una nuova cosa Ho detto telecomando tarocco, ecco cosa succede quando prendi gli oggetti dai cinesi Io so fare il toolbox Eh? Volete sentire? Ok No a questo punto lo faccio pure io il beatbox, cioè voglio dire Io basta non sono tagliato per fare il bimbo minchia Anche questo, via Amico c'hai un filo davanti, lo togli? C'è iniziano a avvenire le crisi epilettiche C'è ad un certo punto ha iniziato a fare E' finita così Manco un saluto ci ha dato Va bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Daterli una bella menata e noi come la sento ci vediamo ad un prossimo video Bella Altra Grazie a tutti.